se quel giorno fossi stata alla vushi per fortuna dell'inquei non eri là scorpion alla fine ti ha offerto il suo perdono sì ma prima devo espiare la mia pena chiunque può usare quella corazza solo dopo mesi di addestramento chi ha scelto di chiamarti ashera la madre demoniaca di necros alcuni tra gli shirai riu non vogliono accettarmi vale lo stesso per me con alcuni degli shaolin la tua famiglia è nei linguei non disapprova le idee di sab zero la dimensione di avic era un vero inferno in terra nulla è terribile quanto il regno occulto ho affrontato demoni interiori ma mai reali dimmi quali sono più difficili da battere grazie per questo scontro voglio solo attenuare i tuoi sintomi quale magia anima la tua corazza si chiama elettricità baraka se avessero corazze simili le truppe di shao comprendo bene il rischio baraka ho studiato a fondo tutte le tue imprese con l'alba mostrami che cosa ha imparato la corazza dovrebbe proteggermi dal tarkat in caso contrario che argus abbia pietà di te spero che l'imperatrice possa aiutarti ci sta provando ma resta ancora molto da fare hai abbandonato il tuo linquei la colpa è solamente di bihan gli shirai riu dovrebbero essere i tuoi nemici i conflitti del tuo mondo non mi riguardano vediamo chi ha la corazza migliore mi spiace ma non c'è paragone sei una vittima della dimensione di avic sono qui per vendicare la sua sconfitta la tua anima soffre sono stata scacciata dalla mia famiglia battere un avversario e arduo ma batterne molti è impossibile sei solo una tuttavia vali per molti questa è la mia maniera di onorare gli antenati ho voluto cercarti perché cerca di non avanzare richieste cyrax non posso crederci quanchi ti ha liberato sì ma non l'ha fatto spontaneamente quella corazza non protegge la tua anima basterà vincere questo scontro sei eterno ma è impossibile eppure come vedi tu stesso sono innanzi a te questa faida tra quai liang e bihan finirà esattamente come loro desiderano la lotta contro il caos non è ancora finita lo so bihan ne è corrotto sopravvivere al labirinto non è impresa da poco merito della mia tenacia la tua armatura porta con sé un fosco presagio perché che cosa accadrà ti sei ripresa dai tuoi travagli infine affrontami e lo scopriremo i tuoi sforzi ci hanno aiutati a salvare la realtà ho fatto il mio dovere con gioia la minaccia delle linee temporali verrà sventata da guerrieri come te noi menti aperte dovremmo lottare assieme io non tollero l'anarchia avic stai cospirando contro la terra solamente contro chi vuole incatenarla all'ordine se solo lo shirai riu osa sfidarmi se avic anche tu sei mio proprio come gli altri il caos ha pochi amici avic nessuno desidera l'anarchia avic soltanto perché i suoi benefici vengono taciuti ho visto fin troppo caos nella mia vita in tal caso sarà bene che io vi ponga fine a differenza del titano tu sembri un tipo razionale razionale ti farò rimangiare questo insulto vogliamo la stessa cosa scegliere liberamente questa non è una scusa per scatenare un massacro per essere un uomo non sei sgradevole non sono sgradevole forse intendevi che sono super sexy lascia che sia la ciliegina sulla tua torta no non pensarci neanche partecipa al mio prossimo film e diventerai una superstar non tutti aspirano alla fama cage mi hanno detto che sei una star del cinema lo riesco divertente sei uno come me e una come te non stanno insieme in nessuna dimensione un uccellino mi ha detto che hai dei trascorsi con quai liang chi è che ha messo in giro queste menzogne sei un campione insolito no tesoro sono unico la tua villa non può competere con la dimora della mia famiglia dici davvero dai mandami una foto sei uno come me e una come te non stanno insieme in nessuna dimensione sei un campione insolito no tesoro sono unico mi hanno detto che sei una star del cinema stronzate non mi conosci sarò la ciliegina sulla tua torta no non pensarci neanche sento può tagliare l'acciaio non sarà necessario da quanto tempo la tua famiglia è nei linquei da prima che i taira diventassero yakuza la tua controparte del caos era crudele e feroce io non sono così cyrex la tua amica sector è proprio un bel tipo io e lei non siamo amiche mi mette a disagio affrontare un cieco immagino che la troverai un'esperienza dolorosa l'universo di avic doveva essere preferirei non doverlo ricordare se solo avessi saputo la verità su bihan lo avresti fermato vorrei tanto poterlo credere il palazzo della tua famiglia è davvero splendido goditi il ricordo perché non lo rivedrai mai più l'imperatrice ha smaltito la sua rabbia solo in minima parte cyrax guidi un esercito ma sai combattere risponderti sarà un vero piacere dunque rinuncia all'inquei solamente alla visione di bihan non posso ancora fidarmi di te ti chiedo solamente una possibilità hai ancora dubbi sulle mie capacità direi di no principessa mostrami come funziona la corazza e non trattenerti non lamentarti se resterai ferita ho sentito che sei uno dei più forti tra gli shaolin uno dei ma per favore gli shaolin si allenano a fondo ma noi shirai riu bando alle ciance sarà la battaglia a decidere ho l'impressione che non cacciaperdere a chi è che piace kung lao vedere un'altra linea temporale sembra incredibile non lo è se combatti per la tua stessa vita il nostro incontro è stato infelice direi che infelice è poco un allievo di madama bo ovvio che sai combattere e in più sono anche un talento naturale anche con quella corazza non riuscirai a vincere il tuo ego finirà a pezzi prima di lei su un dono non ha affatto bisogno degli shirai riu noi siamo qui su invito dell'imperatrice senza l'arrivo del titano avic i tuoi compagni ex compagni limei siamo state entrambe vittime di cospirazioni ciò nonostante questo non ci lega in alcun modo perché liu kang non scioglie l'inquei spera ancora che possano cambiare il tuo clan deve ancora affrontare il castigo che merita perché ponire tutti per le colpe di pochi la vita dell'alta conestabile deve essere dura per fortuna c'è il combattimento ad alleviare lo stress io amavo l'inquei più di quanto tu tenessi alle umgadi io sarò per sempre una umgadi syrax il tempo ti riavvicinerà alla tua famiglia forse non è questo ciò che desidero qua il lianga si circonda di donne davvero formidabili perché è un uomo saggio liu kang hai sbagliato ad addestrare il giovane anzo con smoke perché che cosa lo aspetta lasciare l'inquei è stata la scelta giusta ma questo non lo ha reso più facile liu kang sei un dio ma non pretendi venerazione io esisto per servire e non per dominare sento che il cuore di sector sta diventando freddo speriamo che la storia non si ripeta ancora il inquei sono in difficoltà ma resistono nessuno li sta sottovalutando syrax hai parlato di me con qua il lianga non è vero in realtà devi ringraziare a rumi la milina del caos che ho incontrato era folle e anche selvaggia forse quello è anche il mio futuro risparmiare sector è stata la scelta giusta lo dirà il tempo imperatrice non ti avevo mai vista in questo modo preferisco che questo lato di me resti nascosto sul tuo governo incombono oscure minacce continuano a crescere ogni giorno terrestre voglio schiere di soldati equipaggiati con quella corazza dubito che liu kang sarebbe d'accordo l'anarchia nella dimensione di avic grazie ad argus è stato sconfitto il tuo nuovo clan non avrebbe dovuto sottovalutare il inquei vogliamo correggerli non soltanto contenerli hai affrontato il titano avic puoi aiutarci anche contro shao solo se lo shirai riu approverà la mia missione mi hanno messa in guardia su di te a quanto pare non abbastanza la morte imminente mi dispiace tanto per te altro sangue giovane per la somma anziana non ne avrai neanche una goccia il massacro deve finire solo quando sarò soddisfatta i tuoi genitori ti stanno aspettando non sarò mai più una linguei questo aspetto ti si addice bian tu non mi porti mai un briciolo di rispetto quella corazza non ti appartiene per nulla l'ha detto anche sector eppure è ancora qui avic non ti ha reso perfetto ma non mi interessa il tuo parere al riguardo tu hai sempre fatto un mucchio di domande perché devo decidere da sola il mio destino attaccare Liu Kang sei forse la sua debolezza mi stava irritando troppo se solo a rumi sapesse ciò che so io sa tutto della mia storia con quailiang signorinella sono troppo forte per te sottovalutarmi è un grave errore non sono mai esistiti invasori benevoli i viltrumiti sono differenti con chi si arrende la mia volontà non si spezza ok e il tuo collo invece non devi confondere l'ardore con il talento uccidendo ti dimostrerò finalmente quanto valgo dietro a quel sorriso si nasconde il male puro non ne hai la minima idea quando sei davanti a me dovresti prostrarti io ammiro l'onore non il potere se volessi potrei spremerti come un limone lo sai vero a te sembro forse preoccupata non so se sia più forte il tuo egocentrismo o la tua autocommiserazione ti darò io qualcosa da psicanalizzare speri forse di spaventarmi con i tuoi muscoli spero di accenderti una scintilla tu in armatura risparmiami il tuo maschilismo peacemaker hai sentito parlare di me dicono che sei un bastardo con le palle lascia perdere cyrax ti chiamerò mostarda è la cosa più stupida che abbia mai sentito so che non avresti esitato a bruciare e saccheggiare la terra no prima i saccheggi poi gli incendi saresti davvero un'alleata formidabile preferirei essere la tua nemesi cyrax un passato nei linguei quan chi un futuro da morto ora capisco perché tutti ti odiano eppure gli abitanti del regno occulto non mi odiano affatto penso che tutti sia fatta un'idea sbagliata di me sbaglio a pensare che sei un assassino spietato come hai fatto a diventare così tanto perfido è ovvio cyrax con la pratica sei tu lo stregone che preoccupa tanto liu kang certo come è anche certo che tu presto morirai quella corazza non mi impedirà certo di rubarti l'anima è vero sarò io a impedirlo sei il più giovane campione di sempre no è stato il grande kung lao devo agli shaolin un favore puoi ripagarci servendo la terra perché madame abbo non ci ha detto di sector i rapporti tra madri e figlie non sono mai facili mi dispiace molto per il nostro primo incontro dispiace anche a me cyrax senza sector chi penserà alla tua corazza lo faranno i miei alleati segreti nel suo staff le spire dell'inquei raggiungono ogni continente è l'unico modo per difendere la terra perché ti alleni con quai liang perché imparo a combattere con rabbia perdonarti non sarà una cosa facile non mi aspettavo certo il contrario lavori con scorpion era davvero un avversario scaltro e mi ha insegnato lui a sfuggire ai tuoi colpi navighi in acque pericolose tuttavia riuscirò a restare a galla tu sei il mago che ha inondato la capitale di seido è la verità per quanto possa essere triste il rain che conoscevo era un imperatore chissà magari lo sarò anch'io in futuro vedo che l'imperatrice ti ha risparmiato il mio pentimento la toccata la mia corazza resiste all'acqua certo ma non resiste alla mia pioggia nulla è più tagliente del filo dell'acqua tu non puoi ferirmi rain le tue imprese militari sono leggenda e oggi conquisterò un'altra vittoria non sei altro che un feroce criminale non mi interessa quello che pensi hai tenuto per te i segreti dell'inquei tu non saprai nulla da me oggi scorrerà il tuo sangue terrestre almeno sarà per una buona causa una corazza non ti rende una guerriera è vero ma il talento e la forza sì veneri la guerra come fosse un dio e bagnerò il suo altare col tuo sangue se la guerra non avesse distrutto la tua famiglia la loro morte ha liberato il mio vero potenziale tutti i seguaci di sub zero sono così sleali è lui che ha tradito la mia fiducia reiko i duelli zaterrani sono epici la tradizione è rispettata ancora oggi la tua abilità colpito anche ashra e non è certo un'impresa facile adesso colpirò anche te se soltanto proverai a tradire la fiducia di yu kang altri mi eliminerebbero ben prima di te sai sotto il caos dell'universo di avic sarà stato è difficile spiegarlo a parole non eri al matrimonio di quailiang è stato meglio per il inquai che non ci fossi quante cose in grado di fare quella corazza non saprei scopriamolo come fanno demoni e zaterranea non mi conosci abbastanza per farmi una domanda semile e il tuo acido consuma anche le corazze può consumare qualunque cosa esso tocchi a rumi dice che ti serve altro allenamento tua moglie una perfezionista quailiang dunque sector sta costruendo altre armi ne sono certa ma non conosco i loro segreti se fosse capitato qualcosa a te o ad arumi ma non è andata così non ci pensare sarai pronta quando verrà il momento non cederò mai contro il inquai i tuoi crimini saranno perdonati non dimenticati non mi illudo certo del contrario anzo è guidato dalle sue emozioni devi insegnargli a controllarsi presto ogni inquai avrà una corazza simile allora impareremo a distruggerla grazie per avermi ammessa nello shirai riu dovrai dimostrarte ne degna a syrax un buon linquei obbedisce al gran maestro anche se gli ordini sono ignobili non è tardi per tirarti indietro la via del linquei ormai è tracciata syrax quella corazza è mia non sperare di riaverla indietro la corazza è solo il primo passo vero lo scoprirai con il tempo tu disprezzi ogni forma di autorità no solo la tua e quella di bihan e i tuoi principi il tuo giuramento non l'ho mai infranto l'amore per bihan ti ha reso cieca sei tu a non vedere il futuro del linquei lo shirai riu non è certo il linquei ed è proprio questo il punto la tecnologia sfida la stregoneria sappiamo entrambi che cosa è superiore sto radunando alcuni guerrieri per un torneo e chi combatterebbe mai per te sei davvero un insopportabile ipocrita cerco soltanto di evitare gli stupidi per poco non hai quasi distrutto due regni il mio obiettivo era il dominio non la distruzione perché ti presenti qui stregone per poter dare prova del mio nuovo potere in cambio della tua corazza io posso non parlare tu dici solo menzogne chi nasce serpe rimane una serpe ti aspetti forse che sia in disaccordo la compassione sarà la tua rovina è un rischio che corro volentieri la stazza e il talento non potranno salvarti non è possibile che tu ci creda davvero e tuoi patetici ribelli non sono una minaccia se è così perché fuggono tutti terrorizzati non ci conosciamo eppure già ti disprezzo mi odierai ancora di più quando ti avrò uccisa la tua rivolta non cercava giustizia ma potere che io userei meglio di sindero delle sue figlie non esistono dei link way fedeli non verso un gran maestro corrotto se c'è una cosa che non digerisco sono i traditori sai che suona molto ironico detto da te sparisci terrestre prima che io ti annienti non è così che andrà a finire questa battaglia beh terrestre ti concedo un ultimo desiderio servirà più della tua arroganza per uccidermi regnare per dei millenni deve essere stressante adesso hai capito perché ho i capelli bianchi scorpion si fida di te ma io perché dovrei che tu lo faccia o meno questo non è un problema mio le tue figlie sono pronte per il trono è una domanda o una minaccia non condivido le azioni di sub zero questa è una scelta molto saggia poche donne terrestri combattono come fai tu ce ne sono più di quante immagini i linquei vanno riportati all'ordine è questo lo scopo dello shirai riu qua il yang rischia molto grosso affidarsi di te non si pentirà della sua scelta è dura essere ignorati dalla propria famiglia è proprio come se io non esistessi più Liu Kang mi ha chiesto di aiutarti con Anzo te l'ha chiesto Liu Kang? questo è strano con Sektor come gran maestra i linquei... lo so possono essere anche più letali è vero ciò che dicono hai lottato con un drago? questa storia si gonfia sempre di più Bihan non ti lascerà senza combattere allora dobbiamo farci trovare pronti ci sono dei giorni in cui mi mancano i linquei hanno scelto di rimanere al loro posto oggi è il compleanno di tua sorella non è vero? lo è pensi che questo basti a distrarmi? il linquei merita di meglio sono io il linquei, Syrax non voglio fare parte dei vostri piani nessuno lascia il linquei credevi che non avrei mai scoperto le tue bugie? speravo che a quel punto non avrebbe avuto importanza il resto della tua famiglia continua a obbedirmi io non sono loro Bihan tradirai anche mio fratello come hai fatto con me? se dovesse cedere alla corruzione sì seguire Qua Iliang ti porterà solo alla tomba se così fosse morirò con onore hai giurato fedeltà al linquei io ho giurato di proteggere la terra hai ferito tuo fratello ucciso tuo padre ho fatto quello che andava fatto complimenti che bella voce ottimo udito ma ti aiuterà a combattere? non vorrei ferire quel tuo bel faccino io... ehi, davvero? sei stato in un'altra linea temporale? è un viaggio che sconsiglio ai deboli di cuore Sektor verrà a cercare anche te solo perché ho frequentato lo Shirai Ryu è una follia Liu Kang ti ha portato nel regno esterno? è persino più alieno di quanto pensassi quando ho lasciato il linquei mi hanno deseredata so benissimo cosa si prova sei una Shirai Ryu anche tu come clan questo è un netto miglioramento Shirai Ryu e linquei sono tanto diverse come fuoco e ghiaccio, Takeda l'altra me che hai incontrato lei è un'imperatrice e non solo è una dominatrice di draghi si parla della tua corazza le storie sono vere? in buona parte non posso immaginare una vita senza fede e io non accetto che gli dèi controllino il mio destino non ho mai affrontato un Umgadi allora non te la prendere quando vincerò credevo che i voti del mio clan fossero severi non c'è nessuno che ha tante regole come le Umgadi che cosa rende le Umgadi tanto valorose? disciplina, coraggio e fede non c'è nessuno che ha tante regole come le due